Ciao a tutti sono giornalismo del Cuore Italia 1, benvenuti alle ultime notizie di oggi L'isola dei famosi ha visto da vicino un altro evento incredibile Un colpo di scena impensabile che sconvolge il reality. Un naufrago, sbarcato da pochissimo sull'isola, è costretto a dover abbandonare il gioco È accaduto un dettaglio impensabile. Come la stessa conduttrice, Ilary Blasi, dice durante ogni puntata che l'isola dei famosi 2022, tutto può cambiare Ecco perché un cambiamento si sarebbe dovuto aspettare. La scorsa puntata tra eliminazioni, sfide, e tanti nuovi retroscena emersi, in Hondura sono sbarcati due membri dei cugini di campagna Due sarebbero dovuti sbarcare già precedentemente sull'isola, ma sono stati costretti a sottoporsi ad una quarantena a causa della positività al Covid Uno dei due però sarà costretto ad abbandonare immediatamente il gioco per un'azione davvero sconvolgente Nick Luciani e Silvano Michetti sono sbarcati in Honduras, facendo il loro ingresso su Playa Copiada per prendere parte insieme agli altri concorrenti dell'isola dei famosi Uno dei due naufraghi, subito dopo aver toccato terra, si è reso protagonista di un episodio impensabile Il pubblico non ha potuto assistere a questa scena, dato che Mediaset ha tagliato la parte integrale non mandando l'episodio in onda Lo scorso lunedì i cugini di campagna sono arrivati in Honduras Un addio scioccante quello dell'isola dei famosi.Isola dei famosi l'addio del naufrago Silvano, subito dopo aver incantato il pubblico cantando una canzone in onore di Larry Blasi, ha voluto spiegare all'inviato Alvin che nonostante la barca l'avesse recuperato per lui sarebbe potuto comunque riuscire ad arrivare a riva con le sue forze Prima di spiegare questo, però, Silvano si è lasciato andare con un'imprecazione non affatto carina In studio, l'opinionista Nicola Savino, si è accorto di questa situazione Difatti data la gravità della Ghef, Savino ha esclamato Aia La produzione del reality ha voluto verificare la gravità delle espressioni utilizzate da Silvano, per prendere poi determinate decisioni Stando a quanto riportato da Fanpage, la Mediaset ha deciso di prendere un duro provvedimento, ovvero la squalifica Silvano Michetti è stato escluso da alcuni giochi e la rete si è scusata per questo atteggiamento con tutti i telespettatori Durante il prossimo appuntamento scopriremo quali sono le sorti del naufrago in coppia con Silvano, Nic Luciani Ancora non sappiamo se giocherà da singolo o gli verrà assegnato un nuovo compagno per poter continuare i giochi Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità Ci vediamo nei prossimi video